Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi un unboxing Amazon Ci sono tre pacchetti Adesso vi faccio vedere il primo Allora, apriamolo insieme Cioè l'ho già aperto in realtà Non posso parlare molto perché è il regalo per Giada Per il suo compleanno Le ho preso questo E niente, adesso lo vado a rimettere subito via Prima che lo veda Poi qui c'è la cover per il telefono di Gabriele Adesso lo chiamo così la viene ad aprire lui Gabri Come si apre? Da lì sopra Sono Mongolia No, non c'è Mongolia Da qua sopra Cioè è come il formaggio Allora Scusate ma è super difficile E' una cosa per pulire E' una cosa per pulire Il telefono? Come si toglie? Così ma guarda vedere bene Ha scelto questa qui Sopra c'è una plastica Vedi? C'è una pellicola No, no Prima la metti sopra E poi la levi Lasciamola Ma va, sta male Tutta qui Ecco, ecco Tolto, tolto Dai Valla a mettere al telefono E poi Prima valla a mettere al telefono Poi levi la Va bene Vado e torno Vai Poi ci fai vedere Come sta Adesso apriamo qui Allora Qui c'è Una piccola scatolina E' il vetro temperato Per il cellulare nuovo Di Manuel Che adesso chiamo E glielo do Manuel Vieni C'è il tuo vetro temperato Qui Che desideravi da tanto Micio, micio, micio Aspetta Vieni signor Manuel Adesso posso toglierla Ok Ecco E' dentro il telefono Come vedete va benissimo E' proprio Perfetta Tolgo Vai Togli La Plasticina Wow Tutta Lucida E' lucida Perché Ed è Un po' rigida Non è come Si per pulirla Guarda Piena di ditate Già L'hai appena presa in mano Praticamente Devi stare tutto il giorno Così a pulirla Va bene Adesso Passiamo Alla cosa Più importante Dove ne hai messa La scatola grande Non metta una per terra Che ci serve Giada Ecco Si no ma può venire Allora Adesso La cosa più importante E' la brocca La volevo blu Come quella che avevamo prima Ma era finita No è trasparente Allora l'ho presa trasparente Ma va bene lo stesso Anche perché avevo ancora queste ricariche Che ci sono dentro E quindi non aveva senso prendere un altro modello Adesso apriamo insieme Vi faccio vedere com'è Ok Apriamola insieme Comunque Praticamente C'è la brocca Perché c'è la brocca Perché l'hanno messa nella sua scatola No Questa volta ho preso solo per lui Poi al prossimo giro arriva qualcosa per tutti Allora la brocca è fatta così Adesso la tiriamo fuori dal nylon Se ce la faccio In senso impedita Ok Allora dentro ci sono i piedini Poi c'è Quello che Aspettate Quello che è per l'acqua Praticamente Che qua poi ci va attaccato il filtro E poi proprio La brocca vera e propria Che è bellissimo Anche bianca comunque Voglio dire Trasparente Invece l'altra Questo pezzo qua In pratica ce l'aveva blu Vero Giorgio Ecco si mette così I piedini vanno attaccati qua sotto L'altra non li aveva Sono qua vedete Non so se li vedete bene Ecco E vanno attaccati qui sotto E poi C'è Un pezzo sopra Bianco Bellissimo Questo qui non serve a niente Questo qui è per aprire e chiudere I ventaglietti Quando si mette l'acqua E si mette sopra così E' arrivato Un regalo per Giada Da Emma e Andrea Che domani non possono venire Al suo compleanno E dalla mamma Che Maurizio la vede Perché lei ha una farmacia E Maurizio parta le medicine Nelle farmacie Gliel'ha mandato Dai aprilo Così glielo facciamo vedere Intanto noi andiamo avanti No Intanto noi continuiamo a guardare La brocca Che appunto si apre così E dentro c'è il libretto Che praticamente le istruzioni Sono per lo più Per la modalità Del filtro Di come si fa A mettere tutto E qui In questa scatolina Ci sono i filtri E ce ne sono Ogni filtro dura due mesi Tre Quattro E poi ce ne sono ancora due Eccoli E in più Io ne ho ancora Mi sembra tre E quindi per un po' Siamo a posto Dai 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 Fai vedere Cosa c'era Quanto quel battacchetto C'è una Wings Una Wings Una Wings La tua mano Nella mia Chi è questa Wings Giarda Eccola Blum La fatta Sei tu No Io sono Stella Ah no La è Stella Io sono Blum E vedi L'ora Giarda è Blum No Io sono Blum Ah no E' Sabina Blum Lei è la Flora Lei è la Flora E' già un pezzo E' un elastico Glielo levi poi dopo E anche in fondo C'ha Ah Queen Guarda Stai attento alle gambe Non tagliarli via una gamba Povera Wings Bravissima Guarda Si piegano anche le gambe E' si piegano Non devo togliarle E' un elastico Eh E' un elastico Io cos'ho detto Devo togliarlo Non io E' un elastico L'ho tagliato Ah Per fare il selfie Si Quindi si fa i selfie Con le altre Wings Con le sue amiche Ha un bel vestitino Oh che bello Sotto il volant Guardate Ah Come sopra Sotto qua C'ha la gonnellina Oh Anche le mutandine Le hanno fatto Poi ha le ali E i capelli Vabbè Lo suo colore Le dinocchia Che si piegano Si può togliere anche il telefono Si può togliere anche il telefono Dal Selfie Si Dal bastone Poi ha le scarpe Molto carino Il video è finito Spero che vi sia piaciuto Se è così lasciate un like E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao!